Ciò che il mondo trova insopportabile di noi cristiani a volte è che abbiamo la fretta di voler spiegare anche il dolore del mondo al mondo. Molto spesso noi vogliamo spiegare il dolore per mancanza di fede, non perché siamo credenti. Vogliamo giustificare Dio per sentirci rassicurati noi. Il mondo non chiede a noi spiegazioni, chiede a noi presenza. Cioè un malato che nell'ospedale sta morendo di cancro non chiede che un cristiano vada lì a spiegargli il cancro, ma che vada lì a tenergli la mano. È il primato dell'esserci sul primato delle spiegazioni che tanto ci affascina. L'idolo delle spiegazioni. Allora capite che in questo senso noi possiamo sempre evangelizzare, perché non dobbiamo convincere il mondo. Dobbiamo mostrare al mondo una presenza, non giustificarla. E se diamo ragioni della nostra speranza, lo diamo sempre a partire dalla nostra testimonianza, mai separandoli dalla nostra testimonianza. Queste due cose insieme rendono noi lievito della pasta, luce, sale, sapore, in un mondo in cui se ci presentiamo semplicemente con il vestito di cristiani ci fanno immediatamente fuori. Noi siamo dei corpi estranei se ci presentiamo solo vestiti da cristiani. Se siamo cristiani, nessuno si accorgerà di noi se non negli effetti. Oserei dire in ogni parte del mondo che cosa ci si aspetta da un cristiano? Che sia sale, che sia luce, che sia lievito. Ma questo accade nella misura in cui noi ci sentiamo uniti a Gesù crocifisso e risorto.